Buongiorno a tutti ragazzi sono Gilbe e sono qui oggi tornato in un video importantissimo perché sarà il penultimo per quanto riguarda la maratona di gennaio domani vi porterò il video in cui vi mostro le tre azioni da comprare per febbraio quindi vi ricordo di lasciare i like sotto questo video qua e anche di passare sul canale domani perché vedrete effettivamente quali sono tre aziende che secondo me conviene comprare o perlomeno tenere sotto occhio ragazzi miei questo video qua sarà un video molto breve perché finalmente sono riuscito a trovare l'azioncina che secondo me potrebbe fare un per 10 quindi un 1000% nei prossimi anni però ho deciso sapete cosa di fare un video molto dettagliato e lo farò domenica prossima oggi in anticipazione perché quello che voglio fare io da adesso in avanti è portare un video a settimana massimo due ma quei video lì farli talmente bene che ragazzi miei non potrete non lasciare like questo qua è solo una preview ed è solo un video aggiornamento quindi ragazzi miei se siete ai pati per l'azioncina contate che ho passato tutte queste settimane qua i tempi liberi che avevo perché considerate che ne avevo veramente pochi essendo che stavo portando un video al giorno avevo veramente pochissimo tempo ma secondo me ho trovato un'azienda che è spettacolare non ve l'annuncio qua perché voglio crearvi un po' di hype lo farò probabilmente domenica prossima e vi preparerò un video che ragazzi miei secondo me varrà la pena guardare oltre questo vi voglio ringraziare tantissimo per gli innumerevoli abbonati che ci sono aggiunti questo mese qua nel caso non lo sapeste si ho una sezione abbonamenti che permette appunto agli abbonati di riscattare tanti vantaggi ci ho fatto dei video a riguardo quindi se vi siete persi magari andatevi lì a rivedere detto questo ragazzi io sono veramente molto molto felice dell'azienda che ho trovato e oltre a questo sono anche felice per come è stato questo mese qua visto che mi ha fatto capire io attenzialmente sono sempre stato molto più per la quantità che per la qualità all'interno dei video portando però un video al giorno mi sono reso conto che la cosa che vorrei provare a fare è magari portare un video a settimana fatto molto bene cioè editato bene e molto dettagliato e magari per il resto dei giorni magari portare ogni tanto un video che dura anche solo un minuto due minuti in cui vi dico le notizie del giorno o magari vi dico delle opinioni su cose che non avrebbe senso dedicarci un video intero detto questo la mia idea l'ho presa da ingegneri in borsa mi pare si chiama il canale quindi se non li conoscete magari andate lì a seguire detto questo ragazzi miei questo qua era solo un video aggiornamento per ricordarvi che domani ci sarà il video sulle tre azioni da comprare per febbraio e a partire da lunedì non avrete più un video al giorno perché chiude la maratona di gennaio e tra l'altro se non lo sapete ho creato una playlist in cui faccio vedere tutti i video di gennaio che ho fatto quindi 31 video e a partire appunto dalla prossima settimana farò un video o due a settimana adesso vedrò in base anche ai tempi che ho in cui vi mostrerò quella che secondo me è un'azioncina che può fare il 1000% quindi se siete ai pati anche voi magari fate una sapere qua sotto nei commenti tra l'altro se avete voglia magari scrivetemi anche voi un'azioncina che secondo voi potrebbe fare il 1000% magari nei prossimi 5 anni entro i prossimi 5 anni detto questo ragazzi miei io spero che questo video qua seppur breve vi sia piaciuto lasciate un bel like un commento e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao